Capitolo 4 La Contessa Cleglia era solo nella sua stanza da letto, di cui gli addobbi e gli ornamenti, sovraccarichi di sfoggiata ricchezza fuor delle leggi del buon gusto, è più facile che un uomo d'immaginazione se li dipinga, di quello che gli descriva un galantuomo di null'altro temente che di riuscire noioso ai lettori. Tuttavia, in quelle linee contorte e peccaminose del barocco, e in quell'oro condensato senza risparmio in forme d'ornamenti, c'era qualcosa che poteva parlare alla fantasia, e tanto più che in mezzo ad essi spiccava una donna così severa e così bella, bella di quella bellezza di rigida perfezione che lascia placidissimo il cuore, ma che provoca lo spirito d'osservazione in menti abbezze ad esaminare le opere d'arte. Pure non si poteva dar figura che fosse meno adatta a quella stanza, che l'una e l'altra rappresentavano due stili di due periodi opposti e nemici tra loro. Il volto della contessa apparteneva a quello stile greco-romano che non sopporta transizioni di scuola, e siccome in quell'ora in cui vegliava ella si era lasciata cadere l'alta acconciatura dei capelli, dai quali, ravviati un momento prima dalla cameriera, era scomparsa anche la cipria, così a quelle volute contorte del borromini e del fumagalli facevano più cruda antitesi quella fronte quadra, quei piani delle guance modellati a rigore, come quelli di un cammeo antico, quel mento romano che richiamava il mento appunto della Clelia, quando passa il tevere disegnata dall'improvvisatore Pinelli. Quel naso rigorosamente giusto e ad angolo retto, il quale insieme con gli occhi grandi e neri e di lento giro e con le palpebre prolisse e coi sopraccigli arcuati e folti, più forse che non comportasse la delicatezza muliebre, generava quel tutto che sarebbe necessario a dipingere una minerva convenzionale. Occhi tuttavia e sopraccigli e palpebre, che pur di sotto il rispetto quasi disgustoso che imponevano e alla fuga in cui mettevano ogni pensiero giocondo e gaio, potevano in certi momenti, e a seconda di certe nature, provocare strani pensieri e sommuovere il senso voluttuoso. La fronte però, quasi sempre corrugata di quella gentildonna, e certe protuberanze che, preziose sotto alla mano del frenologo, recano sempre offesa alla completa bellezza, per l'occhio dell'artista potevano venire in soccorso onde spegnere la seduzione. Ma da quella fronte, senza saperlo, i rigidi parenti, di cui per essere figli ad un sistema di prudenza sopprimeremo al solito il nome del casato, avevano preso consiglio per dare alla fanciulla Cleglia, un'educazione che fosse distinta oltre il consueto, a ciò poi singolarmente sollecitati da un dottissimo abate, un tal Carlantonio Tanzi, stato precettore al fratello della Contessina, il quale, non trovando più nessuno a cui comunicare la sua dottrina, pensò fare di lei un oggetto di esercitazione scientifica, penso ai vecchi anni, e una meraviglia del gentil sesso. Ad ogni modo, l'abitudine di introdurre le fanciulle a discipline non fatte per il sesso grazioso del secolo passato, secolo delle esagerazioni e delle cose a rovescio, fu comune più che non si creda. Era il barocco applicato all'educazione, per cui alle fanciulle si gonfiavano le teste a spese del cuore e si riduceva la scienza a ricovrarsi per forza all'ombra dei guardi infanti. Molte donne, nel secolo passato, studiarono filosofia, giurisprudenza, matematica. Talvolta qualche stragrande ingegno fece parer sapienza cotale pazzia, e valga per tutte quel prodigio della Gaetana Agnese, ma più spesso furono animalie di sterilissima dottrina, rigonfiata da orgoglio infelice. La Contessina Cleglia, pertanto, dal dotto abate che non aveva cavato nessun costrutto dal fratello di lei, fu incaricata di farle sue veci e di rappresentarlo al consesso dei dotti. A dieci anni la Contessina, oltre alla lingua francese, che si parlava ritualmente dal conte padre, il quale tante volte si era trovato a Parigi, confuso nella folla dei cortigiani del gran Luigi, conosceva la lingua latina, e il professor Branda, quello col quale ebbe a canite dispute il giovane Parini, fu invitato dal prete Tanzi a sentirla Contessina Cleglia a tradurre l'orazione del Cicerone, Proarchia e il sogno di Scipione, e a recitare a memoria uno squarcio di Lucrezio, de rerun natura. Non istupisca il lettore che Voltaire mandava già il figurino da Parigi, e il professor Branda, lodata al contepadre la Contessina miracolosa, consigliò alla batte Tanzi ad insegnarle anche la lingua greca, e la lingua greca fu imparata. Poi, quando ella ebbe 16 anni, apprese matematica, insieme con il giovane Paolo Frisi, quello che fu in seguito autore del trattato De gravitate universali corporum. E in questa scienza, aiutata da un naturale ingegno e sollecitata da quelle prove di distinzione, onde si vedeva circondata ogni qual volta trovavasi con le altre fanciulle patrizie sue coetanee, fece tali progressi che fu introdotta persino all'intima confidenza di Urania. Di modo che nella notte a cui ci troviamo, quantunque la Contessa pensasse assai più di quello che leggesse, pure si teneva sul tavoliere di Lapislazulo, insieme con l'opera di Boscovich, Demaculis Solaribus, e all'altra di Eulero, Nove tabule astronomice, il famoso trattato sulla precessione degli equinozi che D'Alembert aveva pubblicato due anni prima, del quale D'Alembert ella sapeva tenere dietro senza contorcersi alle dimostrazioni, tanto che avrebbe potuto ripetere ad un consesso di dotti, come gli assi dell'ellisse descritta dal polo dell'equatore, sieno fra loro come i cosseni dell'obliquità dell'eclittica ed i cosseni del doppio di questa obliquità. Ma i cosseni dell'obliquità dell'eclittica non potevano bastare a rendere felice una bella donna di 25 anni. Sette intanto ne rancorsi da che era stata fatta sposa all'ex colonnello Conte V, senza mai averlo veduto prima, senza avere dell'amore e delle questioni aderenti, altre idee che quelle che sono depositate nei classici latini, idee che non poterono avere uno sviluppo intero, compresse come vennero dall'algebra e dalla geometria, due scienze più infeste dell'abrina ai primi germogli dell'affetto. Sposò dunque l'ex colonnello che aveva 14 anni più di lei. Egli vantava un gran casato, una grande ricchezza, e brillavagli inoltre sull'uniforme di parata un segno che attestava il suo valore militare. Era serio, era dignitoso, parlava poco, ma dalle poche parole trapelava la stima profonda che aveva della giovinetta prodigiosa. Ondella, quando i rigidi parenti proposero il matrimonio, acconsentì e provò anche qualche sussulto che non veniva né dalla geometria né dall'algebra, ma fu un sussulto di brevissima durata, e la scienza dovette colmare i vuoti lasciati dall'affetto vero. D'altra parte, è a tener conto di una cosa. Non tutte le creature umane raggiungono la maturanza a un punto medesimo. L'abitudine agli studi severi, quel non riposarsi mai su pensieri e desideri erotici, aveva ritardato il completo sviluppo della contessa. Fu necessario il tempo, più che il sole di un'anima appassionata, a togliere l'acerbità a quel frutto. La giovane contessa era alta, era ben atta, era bella, parliamo d'allora che andò a maritarsi, ma le mancava quell'arcana virtù della donna che non si sa da chi e da che e come e quando venga provocata. Noi non possiamo dire precisamente in qual periodo della vita della contessa Cleglia abbia incominciato codesta misteriosa virtù, ma pare che sia stato tra l'anno ventiquattresimo e il ventesimo quinto della sua età. Nessuno però si accorse di questo, perché nessuno poteva sospetare che fosse una virtù l'eccessiva acerbità ondella esprimevasi parlando sia con gli uomini sia con le donne. Un fatto solo notarono tutti, e uomini e donne, che ella era cresciuta in beltà, si era fatta più maestosa nel volto, si era arrotondata nei contorni del corpo, soltanto negli occhi era diventata più seria. Del resto, chi mai non potesse capacitarsi del come una donna possa essere più bella a 25 anni che a 18, sappia che la contessa Cleglia non aveva mai avuto figli, e che i parti e il latte guastano un bel corpo di donna più che i classici latini e i trattati di astronomia. Quantunque però crescesse di maestosa bellezza e di attraenti rotondità, non per questo nessuno presumeva che la gioventù galante le si facesse da presso. Ella non era chi ammirata quando non era temuta, ed era temuta quando non era odiata, che vi sono tali beltà a questo mondo, sia maschili femminili, che raccolgono tanto meno quanto più hanno di perfezione nel loro aspetto. Sono conquiste considerate al di sopra d'ogni forza volgare, e però lasciate in disparte, come imprese disperate. Donne condannate tutta la vita a desiderare e ad essere desiderate, a tormentare e ad essere tormentate, per finire i vecchi anni tra le reminiscenze di una gloria vanitosa, senza felicità. Nessuno adunque dei bei giovani di Milano osava avvicinarsi alla contessa. Quantunque taluno dei più audaci si fosse azzardato persino a dire all'amico, che bella donna! Ne è da credere che facesse paura il grave e superbissimo suo marito, ex colonnello. Tutt'altro. La paura non veniva che dalla maestà soverchia della bellezza di lei, e da quelle parole piene di sapienza riposta onde la faceva mutolire tutti quelli che le si avvicinavano, ed al sospetto che ella fosse più sapiente ancora di quello che era. Ma come poteva dunque un tenore? Noi stavamo in aspettazione di questa domanda, però la soluzione del problema eccola qui. Nel famoso 18 Brumaio, Bonaparte, che pure era passato in pertearito attraverso la fruttiglia inglese, fidente del proprio destino per giungere in tempo a Parigi, onde recarsi in mano le redini di tutta la cosa pubblica, quando si trattò di abbattere il consiglio dei Cinquecento si smarrì, e parve minor di se stesso, e nessuno dei suoi coraggiosi fautori, nemmeno il fratello Luciano, avrebbe osato disperdere quel formidabile consiglio. Chi sepe far tanto? Colui che aveva a me in testa di tutti, colui che ripeteva il suo coraggio dalla spavalderia militaresca, e affrontava il pericolo per non saperne misurare le conseguenze. Fu Murat, che alla testa dei suoi granatieri, a baionetta in canna, entrò nel consiglio, e i membri dovettero discendere dalle finestre, con che le sorti di Napoleone furono fermate. I grandi fatti giovano a spiegare i piccoli, e viceversa. Però la contessa Cleglia, che riusciva ai cavalieri milanesi più formidabile del consiglio dei Cinquecento, non fece nessuna paura al tenore amorevoli, il quale anzi si incalorì delle difficoltà, e fatto baldanzoso dalla lunga lista dei propri amori fortunati, e reso intraprendente dalle sopracciglia folte della contessa che gli richiamavano le sue belle compatriotte di Trastevere, perché il tenore amorevoli era nato a Roma, fece quello che fece poi Murat mezzo secolo dopo, col consiglio dei Cinquecento. Nelle serate musicali che si tenevano o nell'una o nell'altra delle case patrizie di Milano, amorevoli era pregato, supplicato a intervenire, ad imbalsamar tutti quanti col suo dolcissimo canto. La contessa Cleglia, come di brammatica, era sempre intervenuta a quelle serate, e ad onda dell'algebra che le faceva Osbergo al cuore, si sentì penetrare da quella voce, né fu la sola a subire quel fascino. Tutte le gentildonne e leggiadre che si trovavano là a bever l'onda soave avrebbero battuto moneta falsa per quel fatal romano, il quale le saltò via tutte e si accostò alla sola contessa Cleglia. Amorevoli non era uomo di sterminato ingegno, nessuno durerà fatica a crederlo, non era troppo forte in letteratura, nemmeno questo è improbabile, anzi bisognava si facesse aiutare per afferrar bene il concetto dei paragrafi dei contratti teatrali, e più ancora per comprendere alcune strofe dei libretti di metastasio. Ma l'arte di fare all'amore è appunto un'arte, e non una scienza. È in essa che l'istinto va innanzi a qualunque studio, e l'istinto conosce le vie segrete e le percorre da padrone. D'altra parte, amorevoli non mancava di una certa drittura naturale, e quando parlava, parlava bene, e con quell'accento là dei romaneschi. Lingua toscana in bocca romana. Il proverbio è antico, e i proverbi sono la sapienza del genere umano, e la verità di quel proverbio riuscì fatale alla contessa. Infelice. Perfino il gobbo Tacchinardi, gobbo e vecchio, fece impazzire qualche donna col veleno imbalsamato della sua voce. Pensi or dunque ognuno che brecce doveva aprire amorevoli, giovani di ventisei anni, bello, elegante, con certi occhi in cui la penetrazione pareva nuotare nella voluttà, con una voce che, anche allora, solo che parlava era già musica, e con quegli accorgimenti del serpe flessuoso che avvolge e stringe, pur continuando a dispiegare, la pompa della sua variopinta veste. Così la scienza fu investita dall'ignoranza, e la matematica fu messa a giacere dalla melodia. Il lettore non può immaginarsi il dolore che noi ne proviamo.